Con senso informato Con senso informato Espressione linguistica polisenso e ambigua che fa la sua prima apparizione alla fine dell'Ottocento in Germania in alcune regole amministrative in materia di sperimentazione clinica sui detenuti e che proprio in Germania ha la massima disapplicazione nella ricerca medica dei campi nazisti. E che i medici Andrew Ivy e Leo Alexander e già con senso informato a nome dell'American Medical Association definiscono come regola che viene applicata nella ricerca medica negli USA e pertanto offrono alla corte di Norimberga. Il codice di Norimberga è nel 1947 mentre negli stessi anni e per molti anni ancora tra il 1932 e il 1972 si svolge negli Stati Uniti il Task G Study of Untreated Sifilis in the Negro Male Quello studio teso all'osservazione della storia naturale della sifilide non trattata nel quale i ricercatori arruolano uomini neri affetti da sifilide e, mentendo, non somministrano loro alcun farmaco nemmeno dopo la scoperta della penicillina nel 1947 e che il consenso informato è è negli anni 80 del secolo scorso che arriva in Italia nella stessa Inghilterra e in molti altri paesi europei come regola americana e che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea riconosce solennemente dando per scontato che si sappia cosa sia e che ormai dilaga dai trattamenti medici ai test genetici